Ciao a tutti, oggi volevo parlarvi della tanto discussa in questo periodo legge d'attrazione. Allora, la legge d'attrazione funziona che io attraggo ciò che penso, io attraggo ciò che desidero fortemente, con tutto il cuore. Perché devo formulare pensieri positivi come se già avessi ottenuto ciò che voglio richiedere, ciò che voglio avere e ciò accade come per miacolo. In effetti non è più così, in effetti non esiste una legge d'attrazione perché tutto ciò che noi attraiamo, tutto ciò che si è avverato, tutto ciò che abbiamo ottenuto non è successo grazie a legge d'attrazione, a legge simili. Ma semplicemente perché noi l'abbiamo scelto prima di nascere, noi ci siamo seduti, per dire, a tavolino, con tante anime, affine a noi perché eravamo tutti insieme a decidere la stessa cosa e abbiamo deciso appunto che a un certo punto della vita d'arena noi avremmo ottenuto quello che volevamo. E probabilmente abbiamo anche scelto di arrivare a un certo punto della nostra vita e di conoscere fino a conoscenza della legge d'attrazione. Quindi crediamo che attraiamo quello che pensiamo fortemente e che desideriamo fortemente solo perché ci mettiamo dei pensieri positivi. Ecco perché molti magari di voi, molte persone si chiederanno ma perché, in cosa sbaglio se io magari formulo quel pensiero in modo corretto, lo immagino come se già fosse caduto, come se già quell'oggetto fosse tra le mie mani, perché non si avvera lo stesso, perché agli altri si è a me, no? Esattamente perché voi avete scelto di conoscere la legge d'attrazione, però avete anche la prova che non funziona. Non basta semplicemente pensare qualcosa. Il pensiero crea, è vero, è verissimo, ma il pensiero crea, scusate, il pensiero crea non adesso, in questo momento. Il pensiero crea, creato, prima di tornare sulla Terra. Quello che noi in quel momento abbiamo pensato che volevamo per noi, per la nostra esistenza terrena, si avvera man mano che andiamo, proseguiamo avanti appunto con la vita vissuta. Quindi, il pensiero dell'attrazione non esiste, sono tutte fandoni di persone che cercano di elargirvi soldi, soccorsi e quant'altro, soprattutto se vi dicono che lo fanno loro a posto vostro, non ci credete mai, perché nessuno può fare niente al posto vostro, sono solamente voi che potete fare qualcosa per voi, perché nessuno qui può aiutare nessuno, ognuno qua è venuto per se stesso. Quindi, non fidatevi mai delle persone che vi dicono che leggeranno i vostri akashici, perché può capitare che magari un medium molto bravo possa leggere una piccola parte di una vostra vita passata, ma non può leggerle tutte e neanche dall'inizio alla fine, perché neanche voi riuscite a leggerle o a intuirle dall'inizio alla fine. Quindi, la legge dell'attrazione non può esistere, semplicemente perché tutto quello che già esiste nella vostra vita, sia di buono che di cattivo, l'avete scelto voi. Ricordatevi che la vita dura un battito di ciglia, perché un minuto della vita dell'aldilà corrisponde a un secondo. Quindi, io ho scelto magari di vivere in questa terra 80 anni, in realtà sono 80 secondi. Quindi, come vedete, per noi qua non passa mai il tempo, a volte invece diciamo come passa il tempo, come vuole il tempo, ma quando siamo nella vita anche sotto ipnosi, per chi magari ha già provato l'ipnosi, passa in un secondo, vuola, tutto accade in un tempo brevissimo. Quindi, tutto ciò che avete scelto di vivere in questa vita accade semplicemente perché lo avete scelto voi e nessun altro. Voi, in accordo anche con altre anime che hanno deciso di venire sulla terra insieme a voi, che vi fanno da padre, da amico, da amante, da sorella, da fratello, da assassino, perché no? Infatti, non esiste il colpevole e la vittima, no? Quindi, tutto quello che avete scelto voi, purtroppo, si avverrà. Quindi, non è che lo attraiamo, non attraiamo niente. Magari, in quel momento, siamo convinti che la legge di attrazione stia funzionando, però quello che dovete fare, invece, è risvegliarvi da questa convinzione. Fatemi sapere cosa ne pensate. Buona serata.